La regione Campania ha retto bene in campo turistico, a dirlo sono i numeri, queste le parole rilasciate ai nostri microfoni dall'assessore regionale allo sviluppo e promozione del turismo Conrado Matera, che fa un bilancio della stagione turistica nel territorio. Il turismo in Italia ha avuto un calo, a mio avviso la Campania ha retto bene, lo dicono i numeri, ci sono state delle zone che hanno retto di più, in qualche zona si è registrato un calo minimo. Il problema è che anche le condizioni climatiche quest'anno sono state avverse, però bisogna fare una differenza tra chi è abituato al turismo del fine settimana, allora di fatto è stato sicuramente condizionato dalle condizioni climatiche. Chi invece ha organizzato una vacanza, per cui il turista, il vacanziere, nel Cilento si è registrata la presenza e in Campania, in alcuni territori, si sono registrati degli incrementi. Per cui dovendo trarre un bilancio acconsundivo di una stagione estiva, io le posso dire che la Campania, rispetto anche ad altre regioni, ha retto sicuramente bene.